Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Ma non è un fatto da poco rispetto a quello che si era raccontato, può cambiare qualcosa o no? Purtroppo non credo. I politologi dicono che siamo nell'epoca della post-verità. Questo è un dato di fatto, nel senso che qualunque sia la verità vera, e nel caso in cui ci siano due parti in conflitto, in genere c'è bisogno di una terza opinione indipendente che viene ritenuta la più legittima. Ed è un'inchiesta che ci sarà comunque da parte della nazionale. Un'inchiesta che forse ci sarà, quando le condizioni lo permetteranno, oggi non mi sembra veramente possibile. In ogni caso non credo che cambierà la percezione. Voglio dire che le piazze arabe che abbiamo visto nella copertina hanno già la loro verità. Ritengono che comunque sia stato Israele, mentre Biden in modo coraggioso si è esposto dicendo, secondo le nostre fonti di intelligence, ha parlato del Dipartimento della Difesa, anche il National Security Council si è espresso nello stesso modo e anche un comitato di intelligence del Senato americano. Quindi c'è una raccolta di evidenza anche americana nello stesso senso. Quindi per l'America e per Israele è stato un brazzo di Hamas e lo dimostrerebbe la misura del cratere, tutto quello che tu hai detto, per le piazze arabe è stato comunque un attacco israeliano. Non credo che ci si smuoverà da questo, purtroppo. Biden ha avuto, come dicevi, il suo viaggio depotenziato in qualche modo da questa vicenda perché è tragicissima, perché è saltata la gamba con cui voleva riequilibrare il suo appoggio fondamentale Israele, cioè la visita in Giordania con il capo, seppure ormai screditato dell'autorità nazionale palestinese, con l'egiziano Assisi, con il quale però ha parlato dopo al telefono per un'ora. Ora tutto dipende da cosa veramente succederà da qui in poi. Se Israele rinuncerà a un'operazione di terra che gli americani giudicano perlomeno imprudente e controproducente e se davvero verranno dati gli aiuti umanitari a Gaza attraverso il valico di Rafa, il viaggio di Biden avrà avuto un effetto molto importante. Generale Cuzzelli.